Ora, e viene in mezzo in mare, cari ancora... Passa oggi, qui nella tappa, nella seconda tappa di fuori classe All'interno di questo meraviglioso locale che ci ospita Il Binions, al quale vorrei fare un grande applauso e un ringraziamento Che ci trattano veramente in modo impeccabile Dai paristi, dai camerieri, alla sicurezza Tutti quanti veramente sono delle persone fantastiche Vorrei sul palco il nostro primo premiante E quindi vorrei invitare il nostro maestro Francesco Daniele Venga maestro Perché lei dirà il primo, anzi premirà il primo finalista regionale Nella categoria Baby ed è Desiree Basile Grazie Desiree Maestro se la gira, così facciamo la foto ricordo Ecco, grazie Un applauso a Desiree Basile che passa alla finale regionale Grazie maestro, può provvincarsi vicino allo schipadrone E vorrei chiamare David Pionaci Caro amico mio perché tu andrai a premiare la seconda finalista regionale Nella categoria Juniors Ed è Jasmine Botenario Adesso è arrivato il momento della categoria che è quella di più gradicelli Quindi teenager finale regionale Eh ci va anche più di uno Quindi inviterei la nostra Sara Grazie a tutti Grazie a tutti